Fare il Citi è la cosa più difficile, ma se Ventura sceglie il 4 febbraio 4 se la va a cercare. È un modulo che non esalta, mortifica. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis ospite oggi a Firenze al Festival del Calcio. Ventura ha fatto bene a Napoli, e poi a Torino, ha aggiunto il patron del Napoli, ma alla nazionale tra i tatuto e tutti, un manicomio, anche Conte è scappato. Io penso che al Mondiale andremo e comunque Tavecchio deve difendere la scelta fino in fondo, anche perché Ventura ha lanciato molti giovani. Ci vorrebbe però un Sacchi che gli facesse da suggeritore sul piano tecnico e non solo. Io in nazionale metterei tanti allenatori. De Laurentiis, voglio tanti scudetti, se questo è l'anno buono per lo scudetto. Io voglio restare a Napoli tanti anni e vincere tanti scudetti. Vincerne uno solo, non significa nulla. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, ospite oggi a Firenze della giornata conclusiva del Festival del Calcio. Il calcio è cambiato, non siamo più all'epoca di Maradona, ha continuato il patron del Napoli, quindi uno scudetto deve essere visto come punto di partenza. Sarri. Fosse per me resterebbe tantissimi anni, ha una clausola di 8 milioni che per un allenatore è molto alta. Lui è straordinario. Mertens è in lizza per il pallone d'oro. Se lo merita, ho lavorato un anno perché rimanesse, deve godersi questo momento.